Vigli, sei tu pronto? Io quasi. Ascolta, Uè, ti vieni a fare un giro attorno ai boschi e poi a chiama dal frio. Sì, non stai preoccupati, ho preparato anche per te e poi è buono di mangiare. Ma per dopo, di nuovo vi aiuto. Bambi, frutti! Anche o altri, vedo voi di venire con noi altri due. Poi sicuro, allora saremo in tanti a fare questa escursione. A me! A me! A me! Clame a tu, parinti amici, tutti insieme in tecchia giù te, scoltarim un'estoriù te, con t'inxuxemus di dì, ogni dì si fa scusì. Tut più i miei dovranno pulire, non stai pieni di mamà, non stai la lontan lontan. Sta per piacchia la mamà, tutto più i miei dovranno pulire, non stai pieni di mamà, non stai la lontan lontan. Sta per piacchia la mamà, e non stai la lontan lontan, sta per piacchia la mamà. Mandi d'aria, quando voi a chiamina torpa ai chiams d'oggi di chiasa me, ho visto sempre tanti arbu e mi plasviò di troppo ad alcavan. Mamà, dalila. Mandi, dalila, bravi! Saveso c'è cofasin frutti? Ho la rinna torpa ai chiams e poi i boss dal friù, a viò di ducce calnass spontanei. Oveso di sapere che esistono gli erbi serosi che si possono mangiare. Ma attenzione, che non si può mangiare tutto, no? Chiala, it fruus. Questi sono gli arbu che si chiamano di più in tal nostro friù. Dane Pets Laris E faiare. Oveso di sapere, fruus, che i erbi sono proprio come chiasi sgrandononi con più i plans. Il plan più basale è come se fossero una chianiva di una chiasi. A lì sono a sta besti utis piccinini, istan che il verditiere, il farc, tal plantiere in vesit, ovin la yerbe, il muskli, i fongs. Lì sono a sta rosi, lipari, ricci, croz, lisierti. Ma anche i besti sono un po' più grandi, tanto che i polpi, sgirati, i ghiacci, i ghiacci, i gliri. Rivemo al primo plan che sono sterbi, barati e i rammaci più bassi degli arbu che sono nutrienti per i besti, tanto che i cerchi, i ghiacci, i ghiacci, i ghiacci. Sì, tu hai reso. Tal bosco non sono domi e robi che si possono viodi. Il bosco ha l'essore di rumors, savors, odors e anche di robi che si possono tocchiare con le mani. Saveso frutti che la natura nos dà anche pomis o nevore buinis che puedin nasci in maniera spontanea e che non nasci in doma e tal nestri or di chiasa? Par esempio, il bosco nos dà chiastinis, moris, cerniculis, frambuis e freulis di bosco. Sì, vedi, tu hai di essi sicuro di non mangiare robis che puedin essi velenosi. Tu, per esempio, tu hai di essi attenta a non mangiare robis che puedin fatti dulli la panse, mangiò anche tu sei. Sassu c'è che tu puoi sciri? Tu puoi dare, sì, Ciri, algo di buono che si puoi scattare a questi periodi dell'anno, come, per esempio, i sparks di monta. Sì, i sparks di monta sono sparks salvati che si puoi incrippare su dai 19 di marzo, quando che colla è la fiesta del papà, fino a Sant'Antoni, che colla è ai 13 di Iu. Cui, i sparks, tu puoi scattare a un lavoro buono, come, per esempio, la feritae. Ma bisogna stare attenti, vedi, e ovvero di sapere anche altri frutti, che non si puoi incrippare su massa, perché ci sono planti un lavoro protetti. Frutti, la terrae, i fiammi e i boschi, ci danno pomis che accrescono salvati e bezzogli ogni giorno. Tu, per esempio, i vigi, quale planta salvati e connessi tu? Bravo, io proprio tevere anche le margarite accresse in besolis in tanti nostri schiams. Volevo farmi domande su altri argomenti dove c'è tanta curiosità? Ho voluto fare una dedica. Mandate a Mamà, c'è ut sportelfurlan.eu Ho mandate un Whatsapp a 3, 7, 1 4, 7, 2 9, 0 2, 2 Volevo farmi tutto in trasmissione. Facciamo un gioco. Se so bohins in 5 secondi di chiatata questa immagin, il loofca l'urle, Volevo farmi tutto in trasmissione, il loofca l'urle, il loofca l'urle, alecca, l'uva viso chiatato, bravo. Se so bohins in 5 secondi di chiatà il ricci, Pronti? Volevo farmi tutto in trasmissione. Il ricci all'urle, c'è, Dovevo farmi tutto in trasmissione. L'uva viso chiatato, bravo. Se so bohins in 5 secondi di chiatà la moschie, Pronti? Vie. La moschie è jacca. Ne va vi so chiatate? Bravo. Se so bohins in 5 secondi di chiatà l'urse, Pronti? Vie. L'urse è jacca, Dovevo farmi tutto in trasmissione. Lo va vi so chiatato? Bravo. Indovine, indovinelle. O soi tra la yerbe e il fossal. O hai il fukintor. Ma non mi fas mal. Qui so io. La lusigne. Me cusine e je bette, Ah, ah, je nissun je bette, Je e ulcognosi dut, E cirniovis da pardut, Par scoltale, Io so i pronte, Qui sa vece che nus conte. Mandi di bette? Ah, ah, mi nissun me bette! Mandi frus! Ah, 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 ah con i rosi scocchiati in tal giardin di chiasa di me. Volevo provare una con me? Allora, come ora vi mostro un video di me ultime golaine? C'è una scoperta, un filo doppio, una gusiele, le smargarite e un gran che non si chiude. Prima è roba, a non fuori di chiasa in tal giardin, la cassons floridis c'è tanti srosi. Poi dopo, chiapin su margaritutis. Quando convina vonde, rompin il fros. Così. Come ora, ho visto di clamare un gran che si chiude a passare il filo doppio in te gusiele e poi dopo a passare la gusiele dentro di una margarita per volte. Così. O altri, se potessi passare le margarite al gran che si chiude. Anche in denan così e in plin tutto il filo di rosutis. Quanto vien fatta per in i doi chiavecchie di golaine? Vecchà la nostra golaine! So vedi gusti, ho potessi fare anche un bracciale tutto. Alba sta chiapà un filo più corto e poi faccia come vien fatta per golaine. Veso vio tutti, frutti! Viene, no? Mandi di bette a a mi nizzo me pette! Bat li smassa a ciampe. Fa su un saltadrette. Va le chiante con vosutis te sacchette. Vosutis te sacchette. Vosutis te sacchette. Vosutis te sacchette. In i fichi, toni sgnappe, c'è da brue, ae bai, bis un frai, non è sai, volente bis atto, tic tac. In i fichi, toni sgnappe, c'è da brue, ae bai, bis un frai, non è sai, volente bis atto, tic tac. In i fichi, toni sgnappe, c'è da brue, ae bai, bis un frai, non è sai, volente bis atto, tic tac. Anote, in i fichi, vittoli sniappe, di amburre c'è della blu e della lapsa, di succeso d'arrua, di amore, della biazza, di menin, non la ho mai pissedi, rifiute. Anote, in i fichi, vittoli, sniappe, di amburre c'è della blu e della lapsa, di morgo, la matissa, di venina, non la ho maiETH. A me ne vissà, i frutti, da In i fichi toni snappe C'è da due, ae, vae Su, più su tra e non ne sai Volente vissà, ti, da In i fichi toni snappe C'è da due, ae, vae Su, più su tra e non ne sai Volente vissà, ti, da Ma la chiostre di me Di acqua tricchiava adesso Tuvi da, su su tra bene Amène, che riscui Ma la chiostre di me Di acqua tricchiava as Tuvi da, su su tra bene Amène, che riscui Ma la chiostre di me Di acqua tricchiava as Tuvi da, su su tra bene Amène, che riscui Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.